Ciao ragazzi, siamo i Magisoflotus e prima di iniziare vi ricordiamo, come sempre, di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e di commentare se vi va. Allora, Team Trio, Specialist, Jolly Joker, 15 maggio. Modern, Pioneer e Centurion, costo 15€ a persona, 45 team, tutto in buono in negozio, tutto premi in buono in negozio. Griglia premi, vi faccio vedere una possibile griglia premi, 10 team, 450€ incassati, quindi 450€ di buono in totale, 150€ al primo team, con più 3 Flusterstorm promo, quelle di Modern Horizon 1, poi 120, 90, 90. Se volete iscrivervi, iscrivetevi a info.jollyjokercaffe.it, comunque trovate tutto nell'evento che metterò anche in questo video. Allora, parliamo di una cosa veramente spicy che abbiamo provato a fare, una deck tech preview con una delle carte più discusse in questo momento, il Luxior Jada's Gift. Allora, ci abbiamo provato, sicuramente arriveranno delle critiche, criticate tranquillamente, le accettiamo, non è un problema. Fare deck da zero su una strategia nuova non è facile, però veramente, per portarvi contenuti sempre diversi, innovativi, abbiamo pensato di farlo. Allora, il deck è un GW con splash di blu per Teferi, quindi ho deciso su questa build perché Teferi ci aiuta a proteggere la combo e non è brutto neanche con Luxior, perché comunque si equipa uno e Teferi diventa veramente grosso, quindi perché no? Allora, partiamo dalla strategia base, Devoted Druid più Luxior. Allora, Devoted Druid lo tappiamo, ci dà un mana verde, mettiamo segnalino meno uno meno uno e lo stappiamo. Luxior costa uno, la creatura equipaggiata prende più o più uno per ogni segnalino che ha. Il permanente equipaggiato, se non è un placewalker, diventa una creatura, in aggiunta ai propri tipi. E equipa placewalker ha costo uno, quindi possiamo tappare semplicemente un mana per equipare la placewalker e poi prenderà più o più uno per ogni loyalty che ha. Quindi se ha un loyalty sarà un uno uno, se ha sei loyalty sarà un sei sei. Equipa tre per invece tutte le creature. Allora, queste due sono le carte che scommano, perché se noi abbiamo Devoted Druid che si può tappare per aggiungere un mana verde, equipato con Luxior, prendiamo un mana verde, mettiamo un segnalino meno uno meno uno e lo stappiamo. Prendendo un segnalino meno uno meno uno, grazie a Luxior prende più o più uno. Quindi poi possiamo riprendere mana, ristappare e poi prenderà un altro più o più uno. In questo modo avremo mana infinito. Cosa ce ne facciamo di questo mana infinito? Abbiamo due modi per vincere. Allora, finale di devastazione costa due verdi più X e ci tutora una creatura dal cimitero o dal gioco che costa X e la mette in campo. Molto carina perché ce la prende anche dal cimitero, quindi se è già morta possiamo rianimarla. E se abbiamo anche delle monocopie? Adesso questo mazzo è abbastanza quadrato, però se abbiamo delle monocopie è meglio, perché anche dal cimitero può essere molto importante. Però se X è uguale a 10 o più, le creature che controlliamo prendono più X più X e aste. Quindi con mana infinito possiamo tutorare una qualsiasi creatura, un Elfarbore, un Gamer of Runes o qualsiasi, e dare più 10 più 10 a tutte le creature che controlliamo. Scusate, più 1000 più 1000 in realtà perché abbiamo mana infinito, però X deve essere uguale a 10 o più. Quindi questo è il primo modo per vincere. Il secondo è con Karn, The Great Creator, perché Karn ci permette di prendere una colorless dalla side, scusate, una carta artefatto dalla side o dall'esilio, riverale e prende alle mano. Noi cosa abbiamo di side? Oltre ad avere Luxior, la quarta copia di Luxior, quindi Karn è un tutore per la combo, ma abbiamo anche la Walking Ballista, che quindi con mana infinito ci dà la vittoria automatica. Quindi molto interessante il fatto che abbiamo comunque 7 modi per vincere con mana infinito, che secondo me è importante, perché avere solo mana infinito purtroppo non basta. E niente. Allora, mi è venuta in mente un'altra carta che si potrebbe giocare, adesso che ci penso, che è la terra di Adventure for Gothel Realms verde, che diventa poi con X è un verde e prende più XPX. Anche quella forse ci potrebbe stare se troviamo lo slot, perché comunque può diventare un milione, un milione. Poi ovviamente dobbiamo farla passare, e non è scontato, però se abbiamo... c'è una creatura che comunque passandoci dalla vittoria, va bene. Fate conto che Giver l'ho messa sia come protezione, ma anche durante la combo se abbiamo creature grosse possiamo dargli la protezione, quindi per attaccare e sono imbloccabili. Allora, quindi queste sono le varie parti da combo, però noi ovviamente dobbiamo avere modi per cercare la combo. Quindi Karn ci prende dalla side Luxior, Finale ci prende Devoted, ma in più Finale ci prende anche Stoneforge Mystic, che ci prende Luxior. Quindi abbiamo la catena per prendere qualsiasi parte della combo, sia Devoted che Luxior, tramite Finale. Molto interessante questa cosa perché è importante. Poi, la statice di base ha bisogno anche di avere più mana, perché comunque la Devoted deve essere equipata con 3 mana, e quindi Devoted costa 1, costa 2, Luxior costa 1, e poi dobbiamo avere 3 mana per equiparla. In realtà la Devoted ci dà subito un mana, quindi il mana dovremmo averlo. Tra l'altro si può fare tranquillamente in curva. Terra Luxior, Terra Devoted, tappiamo 3, equipiamo, abbiamo mana infinito, e poi dobbiamo avere una delle due carte per vincere. Luxior è anche forte con Karn, perché Karn comunque parte da 5, quindi equipato a Karn comunque è grosso, e soprattutto se Karn è già in campo dal turno precedente, possiamo attaccare per togliere Place Walker dall'avversario, quindi è molto importante anche questo. Giochiamo 9 accelerini in questa lista, 4 Arbor Elf che ci permettono di stappare una Foresta, una Gerarca Nobile che ci permette di prendere un mana bianco-bluo-verde ed ha esaltato, e 4 Utopia Sprawl che incantano Foresta, scegliamo un colore, e poi quella Foresta darà un mana aggiuntivo di quel colore. Con l'Arbor Elf è fortissimo, perché possiamo fare Karn di secondo, quindi facciamo Terra Arbor Elf, Terra, Utopia sulla Terra Stappata, tappiamo 2 mana, Arbor Elf, 2 mana, 4 mana, Karn, quindi Karn di secondo direi che è un'ottima cosa. Con questa apertura possiamo anche fare semplicemente Finale di secondo per chiamare la Devote Druid, per dire, se vogliamo. Oppure la Stoneforge per Cardra Complete o Batter School. Allora, non ho voluto giocare solo la Luxior, giocando Stoneforge, perché non voglio che se abbiamo già la Luxior o abbiamo già Karn, la Stoneforge sia inutile, questo non deve mai succedere. In più, è molto importante avere piani B, soprattutto contro i mazzi che hanno tanta Disruption. Caldra Complete contro i mazzi a base Disruption è fortissima, ma veramente fortissima, quindi è molto importante giocarla. La Batter School è stata la sessantesima carta della main e l'ho messa sempre per questo motivo e l'ho messa sopra le spade perché adesso tra Prismatic Ending e Marcia Bianca ci sono un po' troppe risposte alle spade che costano 3. È molto facile toglierle. Rispetto invece alla Batter School che torna in mano, eccetera. In più, sia Batter School che Caldra Complete vanno in sinergia con Karn perché le possiamo animare. Tappando 1 possiamo animare la Batter School farla diventare 5-5 oppure Caldra Complete farla diventare 7-7. Quindi, non male come sinergia. Allora, altra carta commessa di side? Vabbè, la quarta Luxior. Altre cose importanti della main 2 Prismatic Ending che esiliano... Cioè, una removal è sempre meglio giocarla. Prismatic Ending è quella che è veramente più flessibile. Poi non giochiamo già comunque 3 colori quindi la possiamo fare tranquillamente da 3. In realtà, con Utopia, se vogliamo, possiamo farla anche da 4 o da 5. Dipende. Dipende da noi. Potrebbe entrare anche un Trioma Bunt però non è il mazzo giusto, in realtà. Ero molto indeciso fra Prismatic Ending e Marcia Bianca. Si possono provare tutte e due. Vediamo. Non è quella comunque la parte importante della lista. Cioè, è veramente una cosa laterale. L'ultima carta è Teferity Reveller. Come vi ho detto, è una protezione pazzesca contro chi gioca a counter e in realtà ci permette di scombare nel nostro turno. Quindi... Tranquilli. Quindi molto forte. In più può bounceare la Stoneforge Mystic quindi importante perché abbiamo una sinergia carina. E... Adesso che ci penso... Niente. No. Va bene così. Allora, questa è la lista base. Le terre, 4 Rosasaga che è importantissima perché ci permette di tutorare Luxor. Quindi come potete vedere abbiamo veramente tanti modi per tutorare tutto. Quindi... È una combo che può essere veramente solida in questo mazzo perché è facile da fare. In più, avendo tanto mana perché abbiamo comunque 4 Arborelf, 4 Devoted, la Gerarca, l'Utopia... Con tutti questi accelerini possiamo arrivare anche addirittura a cassare caldra complete dalla mano che non è brutto per niente. Di side con Karn possiamo giocare qualche carta che costa veramente tanto mana oltre alla balista da prendere quando abbiamo floodato e abbiamo tanto mana ma non riusciamo a scombare. Quindi anche quello è molto importante. E in più, Urzazaga essendo una terra che poi scompare perché viene sacrificata in un mazzo con tanti accelerini è forte perché riusciamo facilmente a creare due token e poi tutorare. Allora, ho pensato anche di mettere un altro drop a 1 per da tutorare con l'Ursazaga si può fare però ero un po' indeciso su quale si può fare la Shadow Spear però non è così sinergica secondo me non ci serve così tanto. Addirittura la carta che mi è venuta in mente è probabilmente la monomappa per tutorare un'altra Urzazaga e entrare un po' in loop però non sono convinto di tutte quelle carte quindi per adesso va bene Luxior il mazzo deve fare quello e se lo fa va bene così. Allora la side per adesso non c'è vi ho messo solo Luxior e Walking Ballista ma la side con questa tipologia di lista dovrebbe essere abbastanza incentrata su Karn ma non totalmente quindi è un mazzo che deve sideare deve sideare però con Karn magari 5 slot li dedichiamo a Karn con carte diverse da prendere con lui. Non ho messo 4 perne di Karn e di Teferi perché non è un mazzo che vuole secondo me avere i doppioni in mano cioè non vuole fare Karn Karn non mi sembra ciò che vuole fare il mazzo come non vuole avere due Teferi in mano anche perché comunque di bloccanti ne abbiamo quindi possiamo proteggere i nostri placewalker abbastanza bene. Allora per i matchup di questo deck contro agro allora contro agro dipende quale intendiamo però secondo me se la può giocare per esempio un mazzo come Hammer Time che è fortissimo per me lo sapete è fortissimo che però ha veramente poche poche risposte avere Karn è fortissimo perché gli blocchiamo tutte le abilità attivate degli artefatti quindi potrebbe essere la carta giusta e il fatto che lui non abbia modo di interagire in maniera proficua di main con la nostra strategia ci dovrebbe dare un bel vantaggio Giver of Runes altra carta forte perché prende protezione anche da Colores se ci serve quindi altra carta veramente forte e niente quindi ci può stare ce la possiamo giocare se pensiamo invece a Barn Barn beh gli basta veramente un botto sulla Devoted però abbiamo la Batter School quindi il nostro piano contro Barn deve essere fare terra celerino o terra quello che vogliamo Stoneforge Batter School fare Batter School di terzo e sperare che basti la Batter School se basta meglio per noi oppure provare a scombare ma è difficile contro i midrange allora Teferi e Stoneforge ci aiutano tantissimo anche Karn perché sono Value Card in un mazzo combo di solito i mazzi combo soffrono i midrange perché sono combo quindi devono fare una cosa ma non hanno tante carte che fanno vantaggio invece questo mazzo qua è un ibrido quindi ha la possibilità tranquillamente di non scombare ma di vincere con Caldra Complete per cui l'avversario non ha risposte e quindi muore da questo 5-5 indistruttibile First Strike Trample e Aste e si Aste e e poi con Karn possiamo prendere dalla Side carte che costano 4-5-6 mana che veramente ci fanno vincere possiamo tranquillamente tranquillamente mettere un Burcoil o altro di Side sono carte che veramente ci fanno vincere Contro Control alla Contro Control potremmo soffrire perché comunque i counter più Solitude e queste cose qua fatta instant sono fastidiose però avendo Giver of Runes che è un ottimo un ottimo Drop a 1 contro controllo veramente ottimo ce la possiamo fare abbiamo sempre questo piano Stoneforge che è molto produttivo quindi Terra Giver Terra Stoneforge Caldra Complete e poi l'avversario deve pregare perché può esiliarci il token però noi abbiamo veramente tanto mana e con Karn possiamo addirittura animare Caldra Complete non è da sottovalutare questa cosa di Karn più Caldra assolutamente e Teferino se facciamo Terra Celerino Terra Teferi Teferi lo mette veramente in grossa difficoltà ha un controllo veramente in grossa difficoltà ci lascia più turni come potete vedere questo mazzo non voglio dire che sia imbattibile perché non è vero non lo è per niente credo però mi sembra un mazzo che ha potenziale quindi vi dico montato così mi piace devo dire che sono soddisfatto della build che abbiamo fatto allora siamo giunti alla conclusione di questo video spero vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale commentate se vi va attivate la campanella ciao ragazzi